Questa conferenza fa parte di un ciclo che Ecoistituto Reggio Emilia Genova ha organizzato insieme a Zenzero chiamandolo Testimoni del Nostro Tempo. Le conferenze precedenti sono state registrate e sono fluibili sui nostri social, sul canale YouTube dello Zenzero e sulla pagina Facebook di Ecoistituto. Niente, passerei direttamente la parola a Pinuccia per introdurre il relatore pregandovi di chiudere il video se non lo faccio io e ovviamente i microfoni e riprendiamo poi alla fine per la discussione. Grazie. Bene, grazie Maria Teresa e soprattutto grazie al professor Ugo Bardi che è qui con noi stasera. Io vorrei presentarlo molto rapidamente, è un professore docente di chimica fisica all'Università di Firenze, si è occupato molto di esaurimento delle risorse, di modellazione della dinamica dei sistemi, di scienza del clima, quindi un tema a noi molto caro e di energie rinnovabili. Il suo blog molto famoso che anch'io insomma seguo, cerco di seguire, l'eredità di Cassandra si chiamava ed è importante perché poi vorrei anche tornarci su questo punto, su questo tema. E' membro, questo secondo me è importante, dell'associazione per lo studio del picco sul petrolio e ovviamente lo sanno tutti quelli che più o meno hanno conosciuto lui e conoscono i suoi libri, membro del Club di Roma. Ed è per noi questo motivo di grande interesse proprio perché diciamo che l'analisi del Club di Roma, un'analisi purtroppo ampiamente sottovalutata appunto dalla politica nelle sue valutazioni e soprattutto appunto nelle sue proiezioni. Oggi ci occupiamo di questo testo di cui poi vorrei chiedere all'autore quando uscirà appunto in Italia e ricordo che nel 2013 il professor Ugo Bardi è stato autore del trentatresimo rapporto del Club di Roma. La mia prima domanda riguarda il tema dell'elemento che lui cita anche tra l'altro in altri testi di cui ha fatto la prefazione, ricordo in particolare i limiti alla crescita e un altro volume che ritengo molto interessante che è recentemente uscito, che è i nuovi limiti dello sviluppo, la salute del pianeta nel terzo millennio. Dicevo che trovo molto interessante la sua valutazione sull'elemento della sorpresa appunto rispetto al tema del collasso. Cioè noi siamo di fronte ad eventi, normalmente anche umani, in cui vi è una crescita lenta, ma la rovina e l'elemento appunto, della distruzione è rapida e allora occorre capire quale strategia intraprendere per far fronte a questi problemi che oggi poi si diciamo evidenziano ancora di più rispetto alle grandi tematiche dei cambiamenti climatici. Io sono stata alle varie conferenze dell'ambiente, devo dire dal 1992, da quella di Rio de Janeiro, me le sono fatte tutte, Rio, Johannesburg, Parigi e l'ultima Glasgow, non questa, non la COP27, ma noi sappiamo che abbiamo assunto degli impegni fondamentali e che dobbiamo mantenere appunto e contenere l'aumento della temperatura entro un grado e mezzo se vogliamo appunto evitare il peggioramento della situazione. E' interessante però proprio la riflessione sulla strategia di Seneca, l'effetto Seneca perché? Perché nell'analisi del professor Bardi il tema del fallimento e del collasso sono elementi caratterizzanti un po' la normalità della vita dell'universo. E quindi capire quali sono le strategie per gestire questa grave situazione che oggi abbiamo visto anche con la vicenda di Ischia, ha anche delle conseguenze gravi con tutto il problema del discesso idrogeologico che si è legato a eventi naturali, ma anche a eventi che sono strettamente collegati con la gestione del territorio. Allora cosa possiamo imparare? Quindi la prima domanda è che cosa raccontano un po' i tuoi libri, in particolare appunto questo su cui oggi vogliamo soffermarci, ma in generale che cosa ci insegnano soprattutto rispetto alla situazione presente? Grazie Pinuccia per questa introduzione. Cosa possono insegnare i miei libri? Difficile dirlo, insegnare, come disse, non ricordo più il nome, ma qualcuno disse, niente che sia veramente importante si può insegnare. E anzi mi viene in mente anche il nome dell'autore di questa citazione, che è quell'Idoard Gibbon, che è l'autore dell'ascesa e caduta dell'impero romano, un libro pubblicato nel Settecento, verso la fine del Settecento, che è un po' il precursore degli studi che il Club di Roma sta facendo adesso, che ha fatto negli ultimi 54 anni della sua esistenza. Ovviamente sono un membro, ma non da 54 anni, è stato alquanto precoce, altrimenti. Ma mi hai fatto pensare tu, Pinuccia, a questo rapporto che c'è fra Idoard Gibbon e me stesso e altri autori che scrivono cose ispirate o facendo parte o sponsorizzate dal Club di Roma, perché è stato a partire del Settecento che gli europei, o gli occidentali in generale, hanno cominciato a interessarsi dell'idea. Dice, ma che cosa potrebbe succedere alla nostra civiltà? Era per vari motivi, è una domanda che le varie civiltà storiche raramente si fanno, ma se la fanno. Se andiamo a ripetere la storia, un po' lo specchio che è stata la storia della nostra civiltà, lo specchio più completo che abbiamo è quello dell'impero romano, che ha seguito tutta la sua traiettoria, nascita, crescita massimo di gloria, di splendore, di potenza, di ricchezza, e poi il crollo che c'è stato su un arco di circa un millennio. E questo, come ci hanno detto molti storici, l'impero romano ha questo grosso vantaggio che è completo. Molte cose che abbiamo, che sono andate perse nel corso dei secoli, ma nel complesso, quando ci serve sapere qualche cosa, abbiamo un'idea abbastanza buona di quello che succedeva. Lo diceva, per esempio, Toynbee, lo scrittore, lo storico inglese, uno precursore anche lui di tante cose, che usava l'impero romano come uno specchio per quello che ci è successo. E Gibbon, nel fine Settecento, più o meno, scrive questo testo che rimane alla base, cioè, di tante cose. Se ci pensate ogni secolo a qualche libro che ci ricordiamo. Beh, immaginate quanti libri sono stati scritti dal Settecento a oggi. Settecento, probabilmente, ci possiamo ricordare, i Principi di Isaac Newton. E anche questo libro di Gibbon, Ascesa e caduta dell'impero, forse anche Declino e caduta dell'impero romano, il titolo più o meno era questo. E Gibbon si faceva questa domanda. Ma che succede a noi? Se seguiamo la traiettoria dell'impero romano, cosa ci può succedere? C'è un capitolo divertentissimo, dal nostro punto di vista, verso la fine del libro, in cui comincia a dire, mettiamo che ci invadano i barbari. Cosa facciamo? Allora, ci occupiamo delle navi, andiamo tutti in America, per avere questa idea che forse era possibile. Però lui aveva già identificato certi elementi del crollo della civiltà, che poi passa attraverso anche Toynbee a delle idee simili. Poi c'è la storiografia moderna di Joseph Tainter e di altri. Ma io mi rifaccio, cerco di rifarmi nella mia modesta capacità culturale, addirittura a Lucio Neoseneca, filosofo romano, che forse è stato il primo nella storia a cominciare a domandarsi ma se le cose vanno male, cosa fai? È la filosofia dello stoicismo, che a noi c'è rimasto. Dice, se lo stoicismo è quella cosa che ti viene un pizzicotto, non ti devi lamentare. Non è sbagliatissimo come interpretazione dello stoicismo. Lo stoicismo era l'uomo virtuoso, l'uomo saggio. Mettiamo, anche non è che Seneca ha detto francamente fosse né tanto virtuoso né tanto saggio, ma non entriamo in questo argomento. Ma comunque l'uomo normale, diciamo come siamo tutti, si trova di fronte a venti cose su cui non puoi intervenire, non ce la puoi fare. Se crolla l'impero romano, può essere anche Seneca, che all'epoca sua era l'uomo più ricco dell'impero, però non lo puoi fermare. Non puoi fermare il crollo dell'impero, non puoi fermare la decadenza dei costumi, non puoi fermare tante cose. Tu stesso, Seneca, come sapete, fu il testimonio principale della sua idea che le cose vanno in rovina rapidamente, è stato l'uomo più potente dell'impero romano per un certo periodo. Il suo allievo, Nerone, era imperatore e per un certo periodo, pare, è abbastanza vero probabilmente, che Seneca era l'imperatore reale, perché Nerone aveva 15 anni, poveraccio, non poteva prendere grosse decisioni, salvo che poi alla fine, come succede spesso nella vita, il tuo allievo si ribella al suo maestro e nel caso se il tuo allievo è un imperatore romano ti può ordinare di suicidarti, e questo è quello che è successo a Seneca. Quindi che succede? Noi stiamo cercando, noi stiamo avendo questa grande quantità di dati che copre una storia molto lunga del cammino umano che è arrivato fino adesso, che è qualcosa che devi soffermarti a vedere, devi pensarci un po' sopra, devi cercarla, devi un pochino tirarla fuori, perché nel grandissimo rumore che ci circonda su tantissimi argomenti, la nostra memoria storica è di qualche giorno al massimo, se non di qualche ora. Ora parliamo di Ischia, è vero, è una delle catastrofi che ci sono capitate addosso, prevedibile sì, certamente, il dissesto del territorio, sono tanti anni che se ne parla, e siccome non ce lo ricordiamo, poi succedono queste cose, ora non per dare la colpa a qualcuno di qualcosa di specifico, perché questa cosa ci è arrivata addosso improvvisamente, come sono le catastrofi, ci è arrivato addosso in tempo, però probabilmente era prevedibile, qualcuno, se un geologo passava di lì, avrebbe potuto dire, guardate ragazzi, qui ci sono case costruite, su una collina, che potrebbe tirarle giù tutte, se piove un po' di più, parlavamo prima con Federico, del ponte di Genova, del ponte di Polcevera, che anche quello, era prevedibile, probabilmente sì, ma al fine non è stato previsto, per tante ragioni, la corrosione, la difficoltà di gestirsi, problemi ingegneristici, la difficoltà umana, chi va a ordinare, si ferma il ponte, perché ha paura che crolli, e se non crolla, hai avuto torto a fermarlo, alla soddisfazione di sapere, che sei quello che ha evitato la catastrofe, però probabilmente sarai ricordato come l'imbecille che ha fermato il ponte, non ce n'era bisogno, e questi sono tutti i problemi che si accumulano sulla nostra storia, quindi noi, come Club di Roma, come altre persone che si interessano di questo argomento, che siamo comunemente definiti catastrofisti, ma va bene, prendiamolo pure come una definizione, non la trovo offensiva, perché l'universo va avanti a balzi, questa è una delle cose che gli stoici avevano già notato, dice, ma non si sale, si scende, Seneca scriveva, ora qui ho le previsioni del Club di Roma, se mi incuriosiscono, ma non entriamo nei dettagli, Seneca diceva, si cresce, si crolla, si ricresce, aveva questa visione un po' ciclica dell'universo, mentre invece noi europei del ventunesimo secolo siamo più bloccati in una visione un po' lineare, cioè secondo la visione normale, certe cose non dovrebbero succedere, quando Ischia crolla, non tutta per fortuna, ma solo qualche pezzo di Ischia crolla, è perché qualcuno ha fatto qualcosa che non doveva fare, perché nella nostra visione, negli ultimi 50-100 anni, tutto deve sempre crescere, non vediamo le oscillazioni, al massimo, nella visione cristiana, o comunque religiosa, che è stata la norma, fino a non tanto tempo fa, vediamo l'apocalisse alla fine, che però è un'altra cosa, l'apocalisse è finale, il colpo, è qualcosa che alla fine completa, un ciclo, in qualche modo, nella nostra visione, che poi finalmente è un'apoteosi, ecco, questo è il termine che si usa alle volte, quindi che cosa succede? Noi vediamo nel prossimo futuro, sulla base dei dati che abbiamo, un probabile declino, della civiltà occidentale in particolare, è un probabile declino anche rapido e pesante, non è detto che la sua rapidità sia tal, sia comparabile a quella del crollo di Ischia, nemmeno a quello del viadotto Polcevera, se la civiltà crollano, sì, ma l'impero romano per crollare ci ha messo 300 anni, la nostra civiltà potrebbe metterci molto meno, perché è più complessa, più espansa, usa più energia, usa più risorse, ha più connessioni che si possono rompere, però non è detto che succeda in tempi brevi, lo stesso per il cambiamento climatico, che Pinuccia menzionava, il cambiamento climatico è una naturale visione della catastrofe che arriva, perché è così, nonostante il fatto che i climatologi, no, ma noi siamo persone positiva, ragazzi, è la catastrofe, quello che ci stai presentando davanti è la possibilità di una catastrofe, avverrà questa catastrofe, non lo sappiamo, potrebbe avvenire, non sappiamo esattamente quando, bisogna fare molta attenzione qui a evitare di cadere in quello che chiamiamo il negazionismo climatico, però dobbiamo anche renderci conto che i modelli sono limitati, con tutta la buona volontà, quando tratti di sistemi complessi è difficile fare delle previsioni quantitative, ma è possibilissimo fare di qualitative, il sistema climatico sta andando in una direzione che potrebbe portarci alla rovina di Seneca, quella che io chiamo alle volte il collasso di Seneca, quando, come e perché non lo sappiamo con certezza, ma io direi personalmente che il sistema climatico evidenzia chiaramente è la problematica di questi collassi, se collassi, se ritardi il collasso, collassi di più, se noi non fermiamo ora il cambiamento climatico in qualche modo, continueremo a emettere gas climalteranti nell'atmosfera, questo genererà una serie di loop, una serie di reazioni, di concatenazioni, di fattori che poi ci possono portare a un collasso climatico che potrebbe essere veramente pesante, se vi mettete a studiare queste cose, vedete, ci sono degli scenari che sono veramente preoccupanti, nel senso che moriamo tutti, non è mica una cosa che non possiamo dire, e potrebbe essere possibile e quindi in vista di scenari terrificanti potrebbe essere meglio non dico collassare economicamente, ma avere un declino economico già ora, cosa che stiamo vedendo e nonostante tutto quello che succede, si ricresce, stiamo vedendo un discreto declino economico dell'Occidente e quindi ci muoviamo per onde cercando di avvicinarsi sempre di più verso il futuro e il futuro sempre si ritrae perché non riusciamo mai a arrivarci, non siamo mai nel futuro, non so come fate voi, ma io mi trovo sempre del presente, non riesco mai, nonostante tutti i miei modelli, non riesco mai a ritrovarmi nella macchina del tempo come nei film e riapparire, non so, nel 2100 per vedere cosa è successo, forse qualcuno di voi ce l'ha, una macchina del genere sarebbe bello, ma forse anche meglio di no, per... Scusa Ugo, mi senti, ma perché c'era, io volevo porti un problema, io qui ho davanti il testo dei nuovi limiti dello sviluppo e la cosa che a Miam mi ha un po' colpito nella sua lettura, è un testo che risale nella versione originale 2004, è meglio tenerlo presente, c'è una pagina dove gli autori praticamente dicono sostanzialmente come è possibile che una società complessa come la nostra e la società dell'intero mondo perché questo è l'impero mondiale che in qualche modo è messo in discussione, si possa accorgere che c'è qualcosa che non va e quindi deve darsi in qualche modo una regolata. Gli autori fanno un lungo elenco che è veramente impressionante, per esempio, ti rego alcuni, capitali e risorse sono dirottate per servizi prima forniti gratuitamente dalla natura e questo per esempio è la depurazione delle acque, questo è un fatto che è avvenuto da parecchio tempo. Capitali, risorse e lavoro sono dirottati verso lo sfruttamento di risorse scarse. A me mi viene di pensare alle trivelazioni dell'Adriatico che appunto il nuovo governo di qualche modo ha recuperato. La cosa più, secondo me, più preoccupante è la domanda crescente di capitali nel settore militare e questa è l'altra, la corsa agli armamenti è un fatto che ci caratterizza. E infine l'ultimo punto che forse è la più importante è che diminuisce la fiducia nel governo pubblico. Allora, tutti questi elementi sono presenti e la domanda che in qualche modo ti vorrei fare è come è possibile che una classe dirigente a livello mondiale, in pari che abbiamo 200 governi a livello mondiale con dei capi più o meno liberamente eletti che quelli sono quelli che devono decidere per il destino appunto degli altri cosa sono 9 miliardi di persone. Possibile che questo segnale ripeto che veniva indicato praticamente 18 anni fa non venga percepito per quello che è e quindi il fatto che appunto poi vediamo cosa eventualmente possiamo fare ma che non stiamo sicuramente facendo perché stiamo andando assolutamente facendo le scelte contrarie. La domanda fondamentale Federico che cosa come quando in che modo con quali strumenti possiamo gestire il sistema economico sociale umano cosa assolutamente non ovvia perché in realtà non abbiamo strumenti non abbiamo veri strumenti globali per gestire il sistema se non associazioni un pochino così modesti modesta di modesto di nessun potere le Nazioni Unite il gruppo del G20 le varie COP eccetera eccetera in cui diciamo trovare un qualche modo di discutere su cosa si potrebbe fare a livello globale ma la domanda è più profonda molto profonda cioè come viene gestito il sistema di comunicazione globale ai nostri tempi che tipo di interazioni perché al tempo dell'impero romano i romani conoscevano il loro impero più o meno sapevano che la Cina esisteva ma poco più di quello sapevano che dalla Cina scusate arrivava la seta e loro mandavano oro in Cina quindi la Cina esisteva ma non c'era modo fra romani e cinesi di coordinare un'azione su una cosa qualsiasi perché mancavano i mezzi di comunicazione cosa che invece oggi abbiamo e stiamo possiamo comunicare a livello planetario un pochettino con tutti tutti quelli che hanno un modo di accedere al grande network che chiamiamo il World Wide Web in qualche modo sono connessi la domanda che tipo di connessione abbiamo che tipo di network abbiamo costruito perché bene o male noi abbiamo degli esempi di sistemi complessi che si autoregolano non così complessi come l'insieme degli otto miliardi di esseri umani non è cosa non è cosa ovvia ma noi bene o male ci siamo costruiti negli ultimi 50 anni una cosa abbastanza nuova una database dei tipi di sistemi intelligenti sistemi cosiddetti intelligenti o sistemi complessi semplicemente che vengono che reagiscono e cercano di mantenere quella che si chiama la loro omeostasi possono essere anche molto semplici non so se avete letto gli studi che fa Parigi sugli stormi di uccelli lo stormo di uccelli è un stormo di in un certo senso ha una sua intelligenza si muove in una certa direzione segue certe traiettorie perché lo fa non perché c'è un grande uccello perdonare che decide dice un testone insomma decide lo stormo vada in quella direzione no è un sistema che si autoregola gli uccelli seguono il loro vicino e questo meccanismo gestisce lo stormo è una cosa che aveva già studiato in epoca abbastanza lontana negli anni 50 il biologo Conrad Lawrence Lawrence studiava i pesci non gli uccelli ma esiste una certa intelligenza di stormo ed è il tipo più semplice di intelligenza però non è un'intelligenza che ha memoria questo è il problema non lo stormo lo stormo non lo stormo lo stormo non ha memoria del passato e quindi reagisce unicamente rispetto allo stimolo del presente il sistema complesso adattativo quello che ha una certa memoria ce l'ha e può essere più o meno profonda lo step successivo dei sistemi adattativi è quello che si chiama l'olobionte attenzione io uso questo termine che a me piace moltissimo nessuno mi capisce che sono l'unico che lo usa in questo modo ma è un termine che ha inventato Lynn Margulis che era la famosa biologa del ventesimo secolo o non l'ha inventato lei ma l'ha diffuso lei un'olobionte è un sistema in cui la memoria del passato esiste nella struttura stessa del sistema il sistema si adatta cambia cerca l'omeostasi ponendosi in una condizione tale da poter reagire agli stimoli e la forma stessa dell'olobionte formato da diverse creature che sono unite in un network gestisce questa memoria e in certe condizioni limitatamente può reagire a perturbazioni esterne ricordandosi di cosa era successo prima perché la stessa struttura precedente dell'olobionte ha un effetto delle condizioni precedenti il passo successivo che non è detto funzioni meglio è quello gerarchico gerarchico vuol dire che l'olobionte è una struttura compartimentalizzata in cui alcuni elementi della struttura sono memorie come in un computer c'è una memoria c'è un processore c'è questa gerarchia di operazioni e questo è quello che dovremmo pensare per cercare di gestire un sistema veramente complesso cioè il sistema se ha una memoria si ricorda del passato se si ricorda del passato può usare la memoria per ritrovare le condizioni che nel passato avevano dato le buone condizioni oppure evitare errori che sono stati fatti nel passato oppure entro certi limiti prevedere il futuro prevedere il futuro dobbiamo avere un'unità di controllo e un'unità di memoria e poi degli attuatori perché se no non può fare niente e questo è lo schema sostanzialmente di un computer oppure dell'intelligenza artificiale dei vari molteplici infiniti metodi che ci sono per creare quella cosa che noi chiamiamo intelligenza artificiale che peraltro non è altro a mio parere che la capacità di adattamento alle perturbazioni esterne allora ritornando alla tua domanda Federico scusa se l'ho presa un po' lontana ma il discorso è che tipo di intelligenza ha un sistema formato da 8 miliardi di esseri umani non è ovvio questo discorso abbiamo delle strutture abbiamo in teoria delle memorie abbiamo dei processori abbiamo degli attuatori però il sistema non è assolutamente ottimizzato non ha una struttura gerarchica sufficiente detto francamente il sistema si comporta come un essere umano o demente oppure pazzo dobbiamo dire in questo modo perché il sistema non è assoluto il fatto che il nostro cervello bene o male normalmente ci fa comportare in modo intelligente di solito è il risultato di diciamo per gli esseri umani di qualche centinaio di milioni di anni di evoluzione il sistema formato da 8 miliardi di persone è il risultato di pochi decenni di evoluzione quindi non ha avuto tempo di formare delle strutture tali da gestire questo sistema d'altra parte è anche vero che il nostro sistema è così complesso che queste strutture possono anche apparire per in qualche modo ora si parla spesso di queste misteriose entità che dovrebbero che secondo alcuni controlla l'universo il grande vecchio di Montecatini che dovrebbe essere una creatura che non si sa come dà gli ordini a tutti oppure lo stesso club di Roma si presuppone alcuni dicono che riesca a controllare ma in realtà vi posso assicurare come membro del club di Roma che ci dobbiamo lavorare ancora sopra parecchio prima di poter dire che noi siamo il governo occulto del pianeta quindi la situazione si deve in qualche modo autostrutturare e questo lo farà non c'è nessun problema perché tutti i sistemi che esistono sono sistemi in grado che sono sopravvissuti quindi se qualcosa sopravviverà io penso di sì qualcosa sopravviverà vuol dire che il sistema si adatta si autoregola in modo da ottimizzare la sua capacità di sopravvivenza questo però comporta un'esplorazione delle spazi delle probabilità il sistema deve esplorare delle cose anche che non deve fare prima di poter andare nella direzione giusta deve esplorare anche direzioni sbagliate come i topi che cercano la uscita nel labirinto il problema è che se il topo prende una strada sbagliata non si fa niente torna indietro riprova l'umanità se prende una strada sbagliata come sotto molti aspetti potrebbe essere torna indietro sì ma vuol dire torna in modo piuttosto come dire non propriamente indolore bene allora visto che hai citato il club di Roma come scenario come orizzonte io vorrei tornare proprio sul club di Roma e sulle considerazioni cioè quali considerazioni oggi alla luce proprio delle analisi contenute nel volume i limiti dello sviluppo del 1972 oggi possiamo fare perché mi aveva molto colpito nella tua prefazione a quel libro che citavo precedentemente il fatto che ciò che sconvolse di più coloro che affrontarono insomma per primi le riflessioni contenute nel rapporto del club di Roma era il fatto che l'economia mondiale non poteva crescere all'infinito cioè quest'idea cioè il limite della crescita cioè questo è un tema che non viene alla fine non viene compreso perché la nostra proiezione è sempre una proiezione verso come dire verso l'alto così come mi colpisce oggi il fatto che già nel 1970 come tu scrivi quello fu l'ultimo anno in cui l'umanità con la sua impronta ecologica globale non era in debito appunto con il pianeta peraltro questo dato noi abbiamo fatto una conferenza con un esponente dell'Agenzia Spaziale Europea e ci mostrava un'immagine molto interessante dell'Amazzonia e diceva bene l'Amazzonia non è più il polmone verde del mondo perché produce più CO2 di quella che è in grado di assorbire e ci ricordava che l'unico polmone verde del mondo sarebbe il mare e a tal proposito io vorrei ricordare un altro libro molto bello che a me è piaciuto moltissimo del professor Bardi che è Il mare svuotato e di fatto noi stiamo appunto devastando distruggendo svuotando come hai scritto tu e trasformando i nostri mari e gli oceani in una discarica e allora dicevo quali sono le considerazioni che oggi possiamo fare e se una domanda che ti volevo volevo anche fare se noi ragioniamo spesso dicendo bene passiamo da un modello di economia lineare che crea valore perso a un modello di economia circolare che è basato sul recupero di materia e forse questa è una risposta così come l'utilizzo delle energie rinnovabili sono una risposta rispetto appunto ai problemi posti dalla fine del petrolio ecco rispetto a questa a queste valutazioni quali sono le tue considerazioni insomma la luce dunque Pinuccia preparate una risposta che durerà circa tre ore e mezzo visto tutti i temi che hai sollevato ma forse posso cercherò di concentrare allora tu hai citato questo libro che vedete qui questa è la copia originale dei limiti e lo sviluppo pubblicata in Italia nel 1973 ed è un libro che quando uscì mi ricordo che io lo comprai nel 72 avevo vent'anni ma io non lo capì non l'ho capito cioè mi ricordo esattamente l'ho letto dico ma forse perché non ero preparato non ero preparato a questo libro e nel 72 ero studente universitario al primo anno diciamo che non mi mancavano gli strumenti intellettuali per capirlo ma lo stesso non riuscivo a capirlo ed è un problema che si è presentato in termini generali immaginati poi se tu devi pensare che questa problematica deve essere capito da persone che non ce l'hanno questi metodi non ci sono statistiche esatte su quante persone in Italia o in Europa o nel mondo sono in grado di leggere un diagramma cartesiano però sono pochi una piccola frazione dell'umanità quindi diciamo che questo non vuol dire che la gente sia stupida per carità anzi il mio dubbio è che quelli che non sanno leggere un diagramma cartesiano possono essere anche molto più intelligenti di me anzi spesso lo sono ma la problematica è che comunque noi come esseri umani come società come sistema ci stiamo creando degli strumenti intellettuali per capire il mondo che noi stessi stiamo creando come anche qui c'è un probabilmente qualche vecchio detto zen che il sentiero è quello che crei camminando e lo stesso stiamo facendo ci stiamo procurando certi strumenti che probabilmente per l'impero romano sarebbero serviti a poco a parte che come sono divertito a rifare le tesse curve anche per l'impero romano ma all'impero romano mancavano le strutture per agire ma anche per capire è stato povero Seneca quando lui scriveva non aveva nemmeno i numeri arabi poveraccio era difficile non era fesso sarà Seneca per chiarità quindi che cosa vuol dire questo questa cosa che tu vedi questo oggetto non è stato capito per vari motivi ma è stato anche capito da una frazione non piccola delle delle intellettuali ci sono delle persone comunque interessate su questo argomento solamente la difficoltà estrema è stata agire sul sistema agire sul sistema però l'interesse e l'importanza di questo arnese è che un primo tentativo di creare un sistema adattativo adattativo basato su un processore centrale central processing unit e la central processing unit crea continuamente degli scenari la nostra central processing unit è qui dentro non funziona sempre bene non facciamo esempi ma crea continuamente degli scenari ed è quello che qui siamo per la prima volta in grado di creare degli scenari scenari che poi alla fine erano anche abbastanza semplici nel senso che come hai detto tu giustamente Pinuccia siamo di fronte a dei limiti evidenti della capacità che abbiamo di sfruttare le risorse naturali dei limiti evidenti della capacità che il sistema di assorbire gli inquinanti che noi creiamo in questo in questo sfruttamento dei limiti evidenti al sistema di assorbire di gestire una popolazione umana che effettivamente continua ad aumentare 8 miliardi e poi c'è chi dice 9 c'è chi dice 10 che dice 12 e chi offre di più ma in realtà siamo arrivati probabilmente ai limiti anche di quella perché non riusciamo più a crescere la natalità sta crollando ovunque perlomeno il sistema in qualche modo si autogestisce perché non è affatto detto che il sistema non possa gestire 8 miliardi di persone l'ecosistema terrestre si può adattare a tante cose diciamo che secondo molte considerazioni potrebbero essere tanti potrebbero essere pochi ma non è tanto questo il problema il problema è che questi 8 miliardi di persone gestiscono le risorse nel modo sbagliato ed era questo il messaggio fondamentale che ci veniva detto cioè si introduceva quel concetto che già esisteva ma in termini qualitativi quello che si chiama overshoot sovrasfruttamento overshoot vuol dire che tu hai una risorsa citavi il mio libro sul mare perché tutto è correlato quando ti interessi a queste cose puoi studiare qualsiasi sistema è molto interessante quella capacità di modellizzare ti consente di modellizzare cose interessantissime affascinanti quel tipo quel tipo di fascino che uccide quindi riesci a capire che la problematica è molto semplice tu hai le balene sono una risorsa già nell'ottocento si parla del tempo di Moby Dick del capitano Ahab di tutta questa storia raccontata così bene così in modo così affascinante da Herman Melville e della già Melville quando raccontava del Pequod e del capitano che cerca la balena già raccontava una metafora dell'universo che lui conosceva secondo la mia modesta opinione e già Melville aveva creato una versione di questo libro qua già in metà ottocento che però andava interpretata non c'erano diagrammi cartesiani però la storia era quella la storia di una ricerca disperata di qualcosa che tu cerchi vuoi sfruttare vuoi questa balena la vuoi in tutti i modi e quando alla fine la trovi è disastro ed era il messaggio che ci mandava Melville che era molto intelligente ma non più di tutti e noi queste cose ce ne rendiamo conto la difficoltà è di agire in modo consistente coerente quando ti mancano le strutture ti manca questa central processing unit planetaria che ti consente di evitare per esempio di uccidere tutte le balene basta pensare che quel tipo di balena che si discuteva si parla nel Moby Dick c'erano due tipi il right whale lo sperm whale che in italiano si chiamano lo spermaceti e la balena franca due tipi se ne cacciavano erano delle balene che stavano abbastanza vicine alla superficie e quella più semplice quella che noi chiamavamo la balena franca che all'epoca chiamavano poverina la franca non so cosa c'entrava ma la balena la right whale cioè la balena giusta era quella che si cacciava facilmente e fai conto secondo i dati che abbiamo ad inizio del ciclo di caccia alla balena del primo dell'ottocento c'era fai conto 600-700 mila di queste balene fine del ciclo lascio a te Pinuccia indovinare quante ne erano rimaste non erano tutte morte quanti ne erano rimaste secondo te c'è scritto nel libro non lo sai 60 femmine in tutto in tutto in tutti gli oceani del pianeta tutto questo fatto con delle navi a vela e con dei tizi che andavano su delle barche lunghe una decina di metri vogando e colpendo la balena con una fiocina e quindi vedi che questa è la problematica ed è qualcosa che noi dobbiamo imparare le balene forse saranno imparate prima di noi questa cosa perché le balene sono nate circa a metà del terziario a metà dell'epoca dell'ultima grande epoca geologica e le balene hanno fatto un po' forse la nostra la nostra traiettoria ma già l'hanno fatto qualche 30 milioni di anni fa a certo punto le balene sono delle creature così efficienti incredibilmente efficienti perché immaginati pensaci sopra pinuccia il mare nel 35 milioni di anni fa sono pieno di pesci e i pesci sono animali a sangue freddo l'animale a sangue freddo si per le pesce un bel tondo un animalaccio che fa il suo ci butti dentro un animale a sangue caldo e respira ossigeno direttamente la balena si turbo e turbo carica la balena respira aria ed è un animale quando sta fuori dall'acqua e quando è dentro è un pesce ma un pesce palestrato rispetto agli altri pesci e quindi la balena questo tipo di balene nasce in un momento di grande sconvolgimento climatico che ci fu più o meno alla metà del terziario che lo vediamo e c'è stato questo grandissimo rivolgimento anche climatico per la nascita di una creatura troppo efficiente che prima non c'era noti la somiglianza con il momento attuale con l'apparizione su questo pianeta di una creatura talmente efficiente che sta scombussolando tutti i sistemi perché è talmente efficiente però le balene alla fine sono adettate le balene sicuramente non facevano le copp non avevano le Nazioni Unite delle balene anche se sono notoriamente a rimanere molto intelligenti che si parlano fra di loro ma non avevano le Nazioni Unite delle balene e quindi si sono in qualche modo che il sistema si è stabilizzato anche il clima si è stabilizzato finché non sono entrati nel mezzo gli esseri umani a ridestabilizzarlo di nuovo se ne consegue per altre cose che per fermare il cambiamento climatico ci vogliono più balene ricordatevo un senso reale che ci vogliono più balene decisamente il senso reale ci vogliono più balene perché le balene raffreddano il clima seriamente si sa è noto questo perché le balene rimescovano la zona vitale dell'oceano fertilizzano il plankton immaginatevi perdonate la cacca che fa una balena questa è una festa per il plankton il quale poi questo plankton ritira giù biossido di carbonio dall'aria una delle possibili ragioni per l'aumento delle temperature osservato negli ultimi decenni è anche lo sterminio generalizzato delle balene un ulteriore fattore all'emissione di combustibili fossili Senti Ugo una cosa che mi era piaciuta nel leggere quel libro che probabilmente contemporaneamente abbiamo scoperto penso che siamo più o meno coetanei non dico che non l'ho capita ma indubbiamente mi ha molto impressionato e ha un posto d'onore nella mia biblioteca insomma insieme agli altri che sono seguiti c'era un aspetto che però mi aveva colpito perché da una parte appunto l'angoscia di questi numeri che dicono che c'è qualcosa che non stai controllando e che potrebbe portarti al bar la trovo da un momento all'altro dall'altro mi sembra che gli stessi autori probabilmente tu li hai conosciuti puoi confermarceli anche così per un'esperienza personale proprio dai loro modelli con tutti i limiti che ovviamente hanno e che loro stessi li conoscevano ipotizzano tutta una serie di soluzioni che a me sembravano estremamente interessanti e praticabili con la difficoltà che però ti ho accennato prima insomma chi è che decide che dobbiamo invertire rotta e appunto partire con un'economia circolare piuttosto che un'economia lineare o l'abbandonare del tutto ecco allora io volevo anche chiederti rispetto a questa visione che tu hai lo si vediamo molto bene anche dal tuo ultimo libro in cui raccogli e metti insieme tutta una serie di informazioni anche molto eterogenee diciamo è molto stimolante leggere le tue cose devo dirti la verità grazie anche la tua ironia mi piace molto anche le tue ti metti seguo su facebook ecco dicevo è possibile secondo te insomma ce la caviamo perché poi è un come ce l'ha già un po' accennato pensi che sia possibile che ce la caviamo e stagioni con un altro tema che da tempo avevo su cui avevo riflettuto se Catastro ci sarà chi ne uscirà meglio sono quei popoli diciamo indigeni che vivono di niente con livelli diciamo di consumi individuali bassissimi che però si sono fortemente adattati all'ecosistema in cui essi vivono sto parlando per esempio degli indios dell'amazzonia quei pochi che sono rimasti ecco su questo che tipo di riflessione ci dai anche ha tirato fuori molte cose infatti quello che il grosso problema era inevitabile diciamo che questo era il limite dei limiti dello sviluppo cioè loro cominciarono a dire se vogliamo evitare certe cose abbiamo bisogno di fare certe cose ma non poterono dire chi dovrebbe fare queste cose perché mancava questo chi e questo come all'epoca tutto era nato da un'idea di un signore che probabilmente lo sapete nome Aurelio Peccei che era un illuminato non nel senso cattivo degli illuminati che sono qui era una persona veramente illuminata che aveva a cuore il benessere di tutti gli esseri umani e lui aveva fatto sponsorizzato questo studio per cercare di capire come non tanto quali fossero i limiti e all'epoca di Peccei lui non si rendeva conto prima dei limiti dice ma come si può fare in questo mondo le ricchezze sono limitate e questo se ne rendeva conto come possiamo distribuirle meglio e da lui partiva da questa pensiera ora noi come facciamo a sopravvivere perché a questo punto la situazione è molto cambiata ma il problema è che mancano le strutture per gestirla e attenzione nell'ecosistema queste strutture esistono è che l'umanità non le sta gestendo bene stiamo nel livello dello stormo di uccelli perché in realtà noi non stiamo gestendo niente è come più che di uccelli diciamo stormo di cavallette gli esseri umani sono un sistema estremamente semplice in cui la governance è estremamente limitata non riusciamo a fermare è una cavalletta intelligente che dice se sorelle che non mangiamo tutto se no non ci rimane nulla non lo puoi dire ma le altre cavallette continuerebbero ad andare per cui perché manca una struttura delle cavallette che ti permetta di gestirti lo sciame delle cavallette noi ci comportiamo un po' come uno sciame in questa fase quindi come usciamo da questa fase sviluppando le stesse categorie che sono state sviluppate nell'ecosistema il primo step in avanti è quello di trasformare lo sciame in un olobionte l'olobionte è un organismo che si basa su interazione a livello locale non a livello globale si basa su piccole interazioni brevi interazioni locali e questo lo chiamiamo relocalizzazione a livello umano questa è una cosa che ci arriva per esempio da Eleanor Ostrom il premio Nobel per l'economia che lei ha dato a studiare le piccole comunità come si gestiscono le risorse e le è trovato incredibilmente che le piccole comunità se le gestiscono bene finché tu gestisci un bosco un lago un fiume di solito magari si litigano si piccano ma normalmente una piccola comunità gestisce benino le risorse che controlla se però lo espandi a certo livello che la gente non si conosce più non interagisce più a livello dell'olobionte a livello dell'olobionte vuol dire interagire localmente un nodo con l'altro a quel punto nasce la competizione a lungo raggio e non riesci più a gestirtelo perché uno dice ma se non lo catturo io quel pesce lo catturerà un altro quindi io posso catturare io anche se mi rendo conto che lo stiamo distruggendo i pesci è quello che si chiama il fenomeno di Hardin la tragedia dei beni comuni che poi non esiste nella forma che lui lo disse ma è una semplificazione di un fenomeno che in realtà avviene leggevo l'altro giorno uno che ci ha ragionato sopra ha detto ma ragazzi pensateci un attimo noi sappiamo che l'isola di Pasqua pur che tante cose non sappiamo dell'isola di Pasqua ma una cosa che è sicura è che prima era bella forestata c'erano alberi che troviamo tracce di questi alberi e allora ci deve essere stato un momento perché ora di alberi zero ci deve essere stato un momento che uno ha buttato giù l'ultimo alberi cosa aveva in mente quel tale lo so io cosa lo sapete anche voi cosa pensava se non lo butto giù io lo butto giù un altro quindi tanto vale che lo butti giù io ed è questo questo grosso problema che abbiamo l'isola di Pasqua è un sistema nonostante fosse abbastanza piccolo era abbastanza grande da essere poco organizzato l'altra possibilità che c'è ma secondo me non ci arriviamo facilmente dobbiamo prima stabilizzarsi su un livello olobiontico ovvero di piccole comunità gestite localmente che fanno meno danni all'ambiente questa è una possibilità che abbiamo non c'è un sistema centralizzato di gestione è possibile che in un futuro più remoto arriveremo anche a dei sistemi centralizzati di gestione cioè a creare una vera central processing unit che gestisce l'ecosistema planetario non è detto che sia così per il momento è abbastanza impensabile solo parlarne e dici ma tu sei il dittatore del mondo puoi distruggere verso cose tipo Flash Gordon contro il tiranno di Mongo insomma per il momento quello che noi possiamo ragionativamente aspirare come esseri umani è a una gestione più locale che fa meno danni e a mio parere ci arriviamo vedo che sono che si si vabbè stavo recuperando il microfono e anche comunque indipendentemente dal fatto che lo dica io lo dica Federico lo dica Pinuccia se ci state sopra dietro un po' vedete che il movimento in quella direzione c'è per delle buone ragioni le corporation non sono d'accordo come? le corporation le grandi corporation multinazionali non sono d'accordo anche io anche io non sono d'accordo su tante cose ma non è detto che mi diano retto non so se ci allora io avrei anche altre due domandine da fare però se ci sono altre domande o interventi prima lasceremmo volentieri vero Maria Teresa? sì certamente però per il momento non ci sono domande allora allora io se non ci sono ancora interventi faccio due ultime domande che sono la prima è visto che hai toccato questo tema a me vengono in mente le comunità energetiche rinnovabili che funzionano proprio perché sono noi le stiamo un po' anche analizzando il nostro presidente Enzo Tortello insomma ci ha lavorato molto anche sul piano tecnico secondo me sono una bella soluzione e la mia domanda però era collegata con questo tema e quindi il ruolo della democrazia rappresentativa in questo contesto dove appunto le decisioni poi vengono assunte a volte anche escludendo le valutazioni e gli scenari che gli scienziati o comunque che la scienza ci ci offre come possibilità e l'altra domanda invece mi aveva colpito molto in questo libro in questo test I nuovi limiti dello sviluppo un capitoletto dedicato agli strumenti della transizione sostenibile noi stiamo parlando oggi tanto di transizione ci abbiamo investito il PNRR che non stiamo peraltro valutando neanche monitorando come noi invece avremmo già evidenziato in molte occasioni cioè la necessità di fare in modo che comunque questi fondi di una serie transizione che non arricchidanno come dice appunto la direttiva europea agli ecosistemi alla natura e alle persone dicevo però mi aveva colpito perché tra gli strumenti per la transizione verso la sostenibilità in questo capitolo il terreno si parlava del ruolo fondamentale da un lato appunto dell'agricoltura e dall'altro però delle reti sociali dell'immaginazione dell'onestà intellettuale dell'apprendimento ecco è molto bello secondo me questo capitolo ecco quindi io le mie domande diciamo le non vorrei esagerare quindi mi fermerei qui anche qui ti posso rispondere in solo 5 o 6 ore di considerazioni ma a parte questo è chiaro che sei andato esattamente al punto ed è per questo che io personalmente trovo le comunità energetiche rinnovabili una piccola ma forse nemmeno tanto piccola rivoluzione non so se ti rendi conto Pinuccio anche tu sei più o meno della mia generazione e noi siamo passati attraverso un periodo in cui si parlava ancora di marxismo e il marxismo che cos'è tante cose ma mettere i mezzi di produzione in mano al popolo non avevano capito però i marxisti che la localizzazione era viena al pensiero marxista però avevamo capito l'importanza di chi gestisce i mezzi di produzione e se tu non gestisci i mezzi di produzione non hai nessun potere questo il Carlo Marx l'aveva perfettamente azzeccata quindi a questo punto se si riesce a fare questa cosa vuol dire mettere i mezzi di produzione nelle mani del popolo mica è uno scherzetto è una cosa è una vera rivoluzione ora probabilmente ci oscureranno per queste cose che ho detto ma tant'è vero è talmente rivoluzionaria che credo non l'abbiano capita nemmeno quelli che la promuovono perché a livello di Stato lo Stato comincia a stare ragionando dice ma se io gli do la possibilità di fare queste queste comunità rinnovabili non mi rompono più le scatole vero ma non ti rendi conto che stai facendo stai cambiando completamente la società è un cambiamento epocale totale è una completa differenza e non è che sia semplicemente un ornamento dal fatto di avere una centrale nucleare che gestisce decine di milioni di persone ed è centralizzata ed è controllata strettamente centrale e avere una distribuzione delle stesse decine di milioni di persone in cui ognuno si gestisce il suo c'è una differenza sociale gestionale anche politica che è gigantesca e questo è una delle direzioni nella quale possiamo andare poi richiede una certa tecnologia anche a questo punto l'ha fatto giustamente dipende dalle tecnologie che usiamo chiaramente fino a dieci anni fa non era pensabile insomma si poteva fare energia rinnovabile sul proprio tetto ma era costoso ma adesso è la cosa più conveniente che ti possa venire in mente di fare ti costa meno produrti la tua energia sul tetto molto meno di quanto non ti cosi comprare gas che arriva dai campi della Siberia con tutta la buona volontà anche senza voler dire che entrare in politica ma è una cosa un po' assurda se tu pensi che noi ci stiamo riscaldando in casa con del gas che arriva attraverso un gas dotto che fa tutta la strada fino a non so neanche dove ma insomma sul Mar Bianco verso Arcangest l'Oceano Artico la Siberia quelle zone lì che è una cosa a pensarci sopra assurda ma soprattutto fragile come avete notato in questi ultimi tempi ancora più assurda è che ci arrivi dai campi del Permiano del Texas che viene prima tirato fuori poi liquefatto messo su una gasiera la gasiera portata qui rigassificata e finalmente attraverso un'altra condotta ti arriva ti arriva qui non può funzionare un po' può funzionare ma non a lungo soprattutto assurda in questo momento quando le alternative sono portate di mano esatto nel giardino di casa esattamente l'ha detto molto giustamente nel giardino di casa ed è un ritorno forma di economia sostanzialmente agricola con tutti i limiti che ha l'economia agricola ma che comunque è un'economia molto più gestibile di quella industriale che tende a distruggere tutto quello che tocca altre domande posso chiedere una cosa certo che puoi chiedere una cosa tu dicevi sulla la potenza rivoluzionaria delle comunità energetiche che forse non se ne sono accorti ma mi viene il dubbio che se ne siano accorti con questo riparlare di carbone di interi gasificatori appunto c'è l'emergenza energetica ma non c'è per caso anche il sospetto che qualcuno si sia accorto che lì era scappata di mano una cosa così importante come l'energia scappata di mano nel senso che hai detto tu per capirci una cosa così importante come l'energia? ma Marco stavo dicendo giustamente le corporation non amano l'idea che uno si produca la propria energia a casa propria non è quindi che sia un ma dipende se hanno il potere di impedirtelo non è ovvio che ce l'abbiano insomma a un certo punto entro certi limiti non dico di andare per la strada a fare a botte con la polizia ma uno potrebbe fare una disobbedienza civile installando i pannelli installare i pannelli e disobbedire non lo potevi ma te non lo puoi fare io l'ho fatto e se sono io pago la multa e me li fanno togliere se siamo qualche migliaio in una città comincia ad avere un effetto politico come vedete la politica si manifesta in vari modi anche i rivoluzionari a questo punto non hanno capito continuano a pensare che la politica si faccia andando per strada con dei cartelli che insomma non si rivela molto efficace ma secondo me la politica si fa installando dei pannelli fotocortaci è sceso il balcone in questo momento poi questo non si riesce a impedire le trivelazioni nell'adriatico o i rigasi devi anche dire questo citiamo il Vangelo signore per tonali perché essi non sanno quello che si fa lascia che lo fanno se no farebbero di peggio non so cosa potrebbero inventare ma almeno ok quando l'idea peggiore di tutti è sempre quella che viene scelta non so anche qui c'è una legge della fisica ma questo non l'ha detto neanche Seneca ma avrai notato amico licidio che le idee peggiori non c'è questa ma sembra che succeda se no potrebbero non so come potrebbero in mente lasciamo stare ma qui secondo me c'è questo momento che abbiamo accennato adesso come dire tutti quanti stiamo cogliendo del fatto che stando interconnessi e scambiandoci idee buone forse ce la facciamo sì qui c'è tutta questa realtà a livello italiano perché conosciamo di queste appunto comunità di varia natura comunque che sono in qualche modo sorte col movimento verde che poi è intorno a quegli anni 70 che in qualche modo è partita in qualche modo l'idea che forse appunto nella mia idea è che devono essere interconnessi cioè formare quello stormo che si muove nelle stesse direzioni e poter poi imporre con la sua appunto anche col suo numero le scelte rispetto a una classe politica che mi spiace anche dirlo ma non è all'altezza insomma noi abbiamo bisogno di persone che siano in grado di capire i problemi complessi in cui l'umanità e la nostra società si trova e non sono all'altezza non ci arrivano proprio e sono stati selezionati in certo modo per poter appunto fare delle altre cose ma non quelle cose che ci servono mentre queste realtà di cui stiamo parlando ci sono sono tante forse devono essere interconnesse di più per scambiarci le idee come dire le idee eventualmente le scelte come quella che stai dicendo insomma mettiamoci tutto quanto tutti quanti un fotovoltaico sul balcone cosa che peraltro si può fare e vediamo che succede non è mica così facile non te la fanno mettere in molti posti è un altro veramente rivoluzionario e mettere i pannelli questo è tutto lo fa anche dove non si può ma io la metto perché è il mio diritto mettere i pannelli fotovoltaici ma a me non piace beh non lo mettere ma il mio diritto magari non ti piace guardare ma guardare in un'altra direzione perché tutti noi abbiamo bisogno di energia senza energia non possiamo andare in nessun posto io sono arrivato a proporre un movimento politico dei fotovoltaicisti con il pugno chiuso ora è sempre rinnovabile potrebbe lanciamo quest'idea possiamo aprire le domande o Pinuccia volevi aggiungere no 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 va benissimo va benissimo no ero solo curiosa sul club di Roma ancora attualmente come così ma il club di Roma è un'associazione di brave persone che chiedono credono veramente di poter aiutare l'umanità insomma diciamo che questo viene fatto riunendo un certo numero di persone in una stanza un certo numero di persone con capelli bianchi in una stanza facendole discutere fra di loro e pensando che questo in qualche modo possa risolvere problemi all'umanità diciamo che è un po' ottimistico ma insomma perlomeno la buona volontà c'è e tu sei uno dei pochi italiani ancora no no ci sono italiani c'è il ministro Giovannini c'è Franco Bologna c'è la mia allieva Ilaria Perissi c'è qualcuno c'è qualcuno c'è bene 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 domande? sei stato troppo chiaro forse o forse siamo frequentati da alieni che non hanno non hanno capito il linguaggio terrestre comunque ringrazio tutti i terrestri presenti oggi per la loro attenzione grazie a te anche noi ti ringraziamo e poi mettiamo a disposizione non Maria Teresa sul questa conferenza è registrata in questo momento è live su Facebook di Ecoistituto e sarà prossimamente da domani anche sulla pagina Youtube di Zenzero vedo che in chat scusate in chat no è un ringraziamento e devo forse almeno uno grazie molto gentile grazie veramente sono Bianca Vergatti molto piacere ciao arrivederci a presto bene allora arrivederci a tutti grazie per l'interesse e scusate per avere un po' parlato di cose un po' un po' astrali ma insomma vabbè aspetta un po' prima di chiudere volevo dire che la prossima conferenza che sarà martedì prossimo 6 dicembre ed è un po' diversa nel senso che intanto è alle 18 e per i genovesi sarà anche in presenza al Circolo Zenzero in via Giovanni Torti 35 la conferenza riguarderà il nucleare e incontreremo o incontreranno diciamo sarà condotta in presenza da Enzo Tortello il presidente di Ecoistituto e da Piluccia Montanari come stasera e incontreremo Angelo Tartaglia ingegnere nucleare fisico del Politecnico di Torino noto contrario al nucleare da sempre e quindi dibatteremo con lui questi discorsi che si fanno tentando di ripresentare il nucleare di nuova generazione come la soluzione per non avere CO2 per non immettere CO2 nell'atmosfera e per avere energia a basso costo omettendo tutto tutto il resto che c'è sotto una proposta di nucleare quindi parleremo di questo e niente martedì 6 dicembre in presenza allo Zenzero e comunque online trovate i link sui nostri siti come sempre bene grazie ancora grazie grazie a tutti